ben ritrovati un bel rompicapo per voi riuscite a spingere la moneta attraverso questo foro è una bella domanda ed è un bel problema da risolvere quale può essere la soluzione di questo rompicapo riuscire a spingere la moneta attraverso questo foro senza danneggiare nella carta nella moneta chiaramente è un gioco che potete realizzare con tutte le monete e con tutte le carte possibili non è che richieda apposta una carta specifica una moneta specifica quindi come si fa a spingere la moneta attraverso questo foro senza danneggiare nella carta nella moneta se non volete sapere la soluzione spengete il video ora altrimenti ve la darò a breve ecco la soluzione come si fa a spingere la moneta attraverso il foro senza danneggiare nulla così sto spingendo la moneta attraverso il buco